Un ponte di collaborazione che collega Arezzo ad Ebron, cittadina dei territori palestinesi in cui convivono con difficoltà la maggioranza araba ed una piccola comunità israeliana. Il primo passo dell'intesa è stata la firma di un accordo di partenariato tra il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani e il presidente dell'Ebron Rehabilitation Committee, il comitato per il risanamento della città palestinese. Il secondo step ha visto come protagonisti alcuni studenti del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo che dal 2 all'8 maggio insieme all'assessore comunale Stefania Magi e ai vertici di SEUM, la scuola europea dei mestieri sono stati ad Ebron per realizzare scambi formativi con i giovani palestinesi coinvolti nel progetto che prevede il restauro e il recupero di un edificio di epoca mammelucca risalente al XV-XVI secolo ed utilizzato come hammam. I nostri ragazzi sono andati a mettere a frutto quelle che sono le loro competenze sia nel campo della catalogazione che sia nel campo della realizzazione di percorsi sensoriali multimediali quindi un intervento in questo bagno turco che sarà restaurato a cura proprio della SEUM di Arezzo. Eravamo divisi in due gruppi e una parte si occupava del reportage video fotografico mentre un'altra parte della quale faceva parte la Federica si occupava della catalogazione di reperti archeologici che erano stati trovati all'interno di questa hammam a Ebron. Siamo rimasti molto contenti e il viaggio sicuramente ci ha cambiato ci ha veramente fatto riflettere sulla situazione politica all'interno di Ebron. Siamo entrati a contatto con tutte le persone che si sono rivelate essere assolutamente disponibili a entrare in contatto con realtà diverse dalla loro come lo siamo stati noi quindi è stato proprio un bel rapporto.